e buonasera a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale con un nuovo video oggi dove siamo di caurle è da tipo dieci anni che non vengo in questo posto quindi non vedevo l'ora di tornare lei più o meno da cinque anni che non viene poi ce la andiamo perché apri tra mezz'ora non perdiamo e cinchiacri andiamo dentro vi facciamo vedere tutte le attrazioni varie che ce ne sono anche nuove e niente faremo qualche garetto c'è un po di fila ragazzi ci sono tuffati perché stavamo morendo di caldo quindi abbiamo fatto un bagnetto vi facciamo vedere attrazione i ristoranti servizi dell'acqua collie di caurle ciao ciao ragazzi volevamo iniziare con questo il babylagon ma non possiamo andarci perché solo per i bimbi e io sono arrabbiatissimo oltre a tutte queste attrazioni ci sono anche tre punti ristoro che sono ciringhito il burger ma noi non ci andremo perché non abbiamo soldi a fine giornata vi dediciamo anche quando abbiamo pagato iniziamo con quello dei tirezzi dei gommoni qua non possiamo fare gara questo qua è strano gira tutto porca locca vieni dove sei gira tutto aiuto porca locca c'è mi capisco niente in questo giusto oh oh siamo arrivati siamo arrivati uoah 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 Madonna mia Ragazzi abbiamo appena finito la giostra E adesso daremo un voto ad ognuna A questa le do 7 perché a me non so perché non riesco a farla bene Io 10 perché è la mia preferita Ragazzi questo ha paura Danny ma lo lasceremo per ultimo Stanno facendo le onde perché qua ogni ora vengono sulle onde Siamo stati prima appena arrivati ma sono altine le onde E durano circa 10 minuti Ragazzi adesso andiamo in Fasting Race Start e sarà gara tra me e Danny Sappiamo già chi vincerà Questo qua lo rifacciamo No perché tu pari Lo rifacciamo siamo 1 a 0 per 3 Chi arriva prima a 3? Va bene Questo secondo me è 8 anche 9 Forse uno dei migliori 9 9 per me è 9 Riprenderò da davanti adesso Primo Ragazzi nel video non si vede niente ma sono arrivato prima io Non è vero Quindi 1 a 1 Adesso proveremo il blue tube per youtube che siamo del settore Ragazzi vado prima io e poi tocca a Danny perché non possiamo andare insieme giustamente Ragazzi va bene Ragazzi non è vero Quaione Quaione non mi piace mi fa malissimo allora ragazzi diamo un voto anche a questo qua basta a me è piaciuto ed ho un 7 e mezzo dai però c'è il problema che mi fa male la schiena quando vado giù perché ci sono tutti gli stacchi dello scivolo per il resto è molto bello perché si arriva giù in bomba è straveloce questo è velocissimo dai 30 secondi neanche no io ho 5 perché mi fa male mi fa male il sedere e adesso saliamo sul castello iniziamo col topo grano fa straveloce e adesso ragazzi l'araconda e adesso facciamo il kamikaze ragazzi abbiamo finito i scivoli del castello allora diamo una valutazione in ordine di scivolo prima io do un 9 mi è piaciuto veramente tanto è veloce ma è anche bello perché si vede non ti è trattata negli occhi anche lei 9 il secondo il kamikaze quello che va giù velocissimo io do un 6 perché non mi è piaciuto tanto perché ti entra l'acqua tutta negli occhi e poi è troppo veloce anche all'ultimo quella destra da un 6 perché invece quello era troppo lento a troppe curve che rallentano appunto la discesa adesso andiamo a mangiare ma prima di andare a mangiare vi facciamo vedere com'è la piscina e l'attrazione numero 2 dove c'è il barile che cade in testa denis ragazzi adesso andiamo sotto il barile si è già caduta è appena caduta ma noi l'aspetteremo a me piace un botto questo qua botto 10 questo è il mio preferito io 7 oh 9 dai 7 e anche la piscina molto bella e bella fresca quindi rinfrescante per sto caldo estivo e anche quella mi sito di dare un 9 io 10 perché ci vanno onde adesso pranziamo denis ha portato un riso con i wustel e io ho portato delle carote con condimento perché a me piacciono un botto le carote e poi buon c'è un po' di melone e la torta della mia mamma dopo pranzo ovviamente faremo quello che ci manca denis quali mancano ma io li faccio 3 hours later ragazzi è arrivato il momento di fare il vortex oh no senti aiutami sei più bella dai oh mio belle queste luci sì forte luca forte luca forte luca oh mio mio oh mia là lorario è finita a morire giù 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 è e la procura non ci può lanciarti no no la prima e l'ultima volta è questa fisca teca ah ahhh di nuovo ahhh 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 Ecco, questa è la mia più grande paura. Ragazzi, diamo un voto al Vortex. A me è piaciuto, ma non lo rifarei. Diciamo che comunque è un po' pericolosetto, perché già con quell'altro dei gommoni mi sono ribaltate, quindi adesso ho l'ansia. E anche lì stavamo per ribaltarci. Io gli do un 6 e meglio. Io 6. Mentre il boomerang Danny non lo vuole fare. Neanch'io vorrei farlo, eh. Cioè, mettiamo chiaro. Però con lei almeno mi sarei dato un po' di forza. 2 a 1. Ho vinto io. Che parola. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto io. Ragazzi, comunque ho vinto io la sfida. Lui è sfigato. Vabbè, ha vinto lei. Sono più brava. Ha vinto lei 3 a 1, non so cosa dire. Ci vediamo in macchina per le considerazioni finali. Ciao ciao. Ciao. Ragazzi, alla fine siamo arrivati fino a casa per fare le considerazioni finali, perché ci siamo dimenticati. In generale mi è piaciuto un botto. Veramente poche, ma pochissime le giosse che non mi sono piaciute. Prezzo. Siamo riusciti a trovare un'offerta a 15 euro a testa, che è pochissimo, perché di solito si paga 30, quindi il doppio. Più lettini, 6 euro a testa, e compreso l'ombrillone. Cioè, la paga. Ovviamente non bisogna mangiare lì, se no... Se no ci spennano. Voto totale per me, 8 e mezzo. Per me, 9. Giostra preferita, quella del castello a sinistra. Io ne ho due. Eh, so già. Quella della corsa che hai vinto. Sì. E quella come la mia. No. Ah no? Il gommone. Niente ragazzi, fateci sapere se anche voi siete stati in questo parco acquatico. Mi raccomando, iscrivetevi che il 70% di voi non è iscritto, non è possibile ragazzi. A noi fate un regalo assurdo, enorme. A voi non vi costa niente. Quindi vi prego, iscrivetevi lì e siete a posto. Preparatevi perché tra poco usciranno dei video in una città europea, veramente belli. Provate a indovinarla qui sotto nei commenti. Non c'è niente altro da dire. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!